Maria, sia come Madre di Cristo Dio, sia come compartecipe nell'opera del Divin Redentore e nella lotta contro i nemici e del trionfo ottenuto su di essi, regna oggi in cielo e su tutta la sua Chiesa sulla Terra come Madre e Regina. La profonda spiritualità di questa preghiera ci permette di chiedere la grazia della perseveranza finale, poiché Maria in umiltà ha sempre seguito suo Figlio Gesù. Possiamo chiedere a Maria di intercedere per noi presso Gesù, per qualunque necessità, poiché Ella è onnipotente per grazia, chiedendo inoltre di imitarla come modello di fede. O Maria, Madre nostra, come Tu proteggesti e amasti il Tuo Figlio Gesù, guarda a noi che anche qui siamo figli e concedi a coloro che reciteranno qui questa preghiera, protezione, consolazione e affetto. Prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente. Un grazie dal profondo del cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Augusta Regina degli Angeli e nostra dolce sorella nella fede, avvolgi con il Tuo sguardo materno tutti noi che con fiducia ricorriamo a Te. Siamo peccatori ma figli Tuoi, ottienici i doni di grazia necessari alla nostra salvezza. guidaci nel cammino della vita per la strada del Vangelo. Donaci la certezza che ci sarai accanto con amore di madre nel momento della morte. Così, insieme agli angeli e ai santi, ti benediremo in Paradiso e con Te loderemo il Signore per sempre. Amen. Se ti chiami Maria, tantissimi auguri. E ricordati che se hai amiche che si chiamano Maria, fagli gli auguri condividendo con loro questa preghiera. Ciao e a presto. Ciao e a presto. Grazie a tutti.